La scuola al convitto, noi da via maggiore andavamo al convitto, cento e tre scali dovevamo fanno su proprio alla terrazza e allora la terza, la prima, la seconda, la terza elementare dovevi fare tutte quelle scale perché l'ascensore ci stia, quando arriva a Gesù ci voleva l'oglio santo. Poi non solo quello, non ci stanno mettendo musicone né niente. Allora si metteva un bracere di fuori alla terrazza, si mettevano le legna e poi si rimettevano dentro alla scuola e poi rinnavi giù e ecco qua, facevi i compiti, poi se non eri brava e non davi retta a loro le battecate le mani e allora la nonna sempre zitta perché se no sta a posto. Mi facevo i compiti, poi rinnavo a casa c'avevo due cugini a me, a Sant'Andrea che andavo il sabato là, dormivo con loro, mi facevano fare i compiti, qualche cosa piccola era dopo la guerra, che poi fa, che mamma non ci stava nemmeno i soldi per la Befana, per tutto. Allora io c'avevo una gommare che vendeva al mercato, vendeva le stoffe, questa roba qua e allora me ne diede una bambolina di pezza, allora me la regalò perché di orcellana non ci stavano, solo che di pezza, ecco e basta.